Oh! Ah! Madonna! Benvenuti sul gioco di Amanda l'avventuriera! La zia Kate ci ha lasciato in eredità questa bella casa! Ci ha detto che c'è una soffitta e che in soffitta c'è qualcosa di strano! E io credo che voglia dire questo strano videoregistratore con questa strana cassetta di Amanda l'avventuriera! Il popolare cartone animato, eh! Questa è la lettera che ci ha lasciato! E noi siamo qui pronti a ficcare dentro la videocassetta! Eccolo qui che parte! Amanda l'avventuriera! Oh! Che bello! Uh! Una torta di mele! La torta di pesca è buona anche quella! È il mio tipo di torta! La torta alla bananona! Non lo so! Qual è il mio tipo di torta preferito? Bah! Sarà... Peach cake! Eh? Deliscious! Oh! È buono perché abbiamo i soldatori in italiano quindi riusciamo a vedere bene! Allora vogliono fare una bella torta eh! Dobbiamo tagliare le mele quindi! Ah! Io avevo detto quella di pesca però! Vabbè! Cosa possiamo usare per tagliare le mele? Eh! Un coltello no! Ma devo dare pure le risposte in italiano! Eh! Un coltello! Certo! Non dovremmo farlo da soli! Ma che dici Uli? Stai zitto! Bisogna... No! Non bisogna mai usare i coltelli da soli se non si è preparati che è pericoloso eh! Difidate da Amanda che sta giocando con... Ma che vergogna Amanda! Tagliamo le mele! Sì! Si è interrotta la trasmissione! Vabbè! Abbiamo tagliato le mele! Che bello! La torta di mele ragazzi! Questo è un gioco horror! Ve l'ho detto? Non ve l'avevo detto? Eh! Dove teniamo lo zucchero? Parliamo l'altro! Eh! Lo vedremo tra poco! Che è brutto! Nel frigorifero o nel lavandino? Eh! Nel frigorifero? No! Eh! Mannaggia! Mannaggia! Nel lavandino? Oh! Io volevo aiutare! Mi hai detto te! Che è nel lavandino! Sotto il lavandino! Stanno sparendo cose! Dove è andato il frigorifero? Perché la cucina mi guarda male? Sarà nella credenza! Ah! Meno male! Avevo paura che si arrabbiasse! Secondo me ci è andata vicina! Uh! Che buon profumo! Amanda! Amandona! Eh! Amanda è sarda! Non so se ve l'ho detto! Samanda si chiama! Samandona! È la pecora! Dovremmo chiedere aiuto a un genitore! Per fare queste cose pericolose! Ma certo! Uli! Hai ragione! Ma non possiamo! Perché non c'è nessuno! Ci hanno mollato! Eh! Sta preriscaldando il forno! Ma stiamo cucinando qualcosa di squisito! Questa tortona! No! Non sembra un gioco horror! Però! 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 Presto qualcosa cambierà! Eh! Eh! Non voglio darvi spoiler! Mangia un po' di torta! Ma sì! Dai! Un po' di torta sarda! Che è successo? Si è interrotta! Vabbè! Finita la cassetta! Vabbè! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Però! Se voi non avete mai visto questo gioco! Io ho qualche informazione in più ce l'ho! So che nella cucina! A parte il forno che è appena comparso! Perché abbiamo visto la cassetta! Però in realtà ci sono anche altre cose! Vedete! C'è questo pianoforte! Noi possiamo inserire una melodia! E in cambio probabilmente si apre! C'è questa cassa con un lucchetto! Quindi dobbiamo avere probabilmente una chiave! Ma ci sono anche altre cose! Ci dovrebbe essere anche un baule a combinazione! Però noi purtroppo non lo sappiamo! Quindi! Ho provato a cercare ma parrebbe che non si possa conoscere al momento! Sicuramente scapperà fuori durante il gioco! Perché ho in programma di finirlo! Dobbiamo provare a terminare il gioco! Allora! Usiamo il forno a questo punto! Dobbiamo mettere in forno la torta! Con le mele! Non abbiamo altri ingredienti! Quindi io chiuderei il forno così! No! Non ho fatto bene! Non ho fatto bene! Perché non ho fatto bene? C'è il piatto! Ma certo! Non basta mettere la mela! Bisogna mettere la temperatura di 425 gradi! 40 minuti di tempo! Come faceva lei! Mettiamo dentro! Chiudiamo! E in teoria! Uuuuh! 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 La videocassetta numero 2! La mettiamo subito! Siete pronti? Bene! Vediamo di che si tratta! Alla prima era in cucina! Questa volta dove ci porteranno? Ah! Che bello! Amanda e Vuli! I miei due amici della Sardegna preferiti! Cosa mi piace del mio quartiere? Eh! Non lo so! Mi piace... Non l'avevo fatto in tempo a dire però! Vabbè! Sono stupido io probabilmente! Ci sono molti amici! Che bello! Vuoi spedire qualcosa Amanda? A un'amica? Al negozio! Eh certo! Che bello! Per decorare il pacco! Andiamo al negozio! Allora eh... Questo è il negozio! Sì! Nel negozio... Cosa succede? Eccoci nel negozio! Fa ridere ma aspettate perché... Arriva il brutto eh! Bisogna avere un attimo di pazienza! Che tipo di biglietto? Eh! Uguale questo qua! Non è il suo compleanno! Vabbè! E allora questo! Bello! Un bel bigliettino per il regalino! Fantastico! Fantastico! Adesso! Sì! Bisogna ringraziare gli amici! Voi vedete che bello che è! È da leggere questo gioco! Un boss da leggere! Non vi preoccupate che finisce presto! E parte l'horror! Un dolcetto vuole comprare la sua amica! Che bellezza! Allora un dolcetto e andiamo nella... Nella beccheria! Nella beccheria! Sì! Oh però ti incoraggia! Hai visto? È tipo Dora l'esploratrice! È la versione... Più bella no? Eh? Più simpatica! Sarda! Un profumo delizioso! Oh che bel dolciaro! Ah che bello! Così? È successo qualcosa? Biscotti! Sì! Sono qui! Guarda! Buonissimi! Non vedo l'ora! Un'altra fermata nel quartiere eh! Ah! Dobbiamo spedire il pacco adesso! Certo! Certo! Sì! Assolutamente per posta! Glielo spediamo! Che vuoi Uli? Non possiamo spedirlo adesso! Ma non rompere le palle pecora cretina! Ma smettila! Spediamolo! Il nome è... Sì! Non si ricorda il nome a chi lo dobbiamo spedire! E questo è un problema Amanda eh! Ti aiuto io! Non torneremo domani! Stai zitto perché vieni ammazzato! Cioè! Devi stare zitto perché vieni scarnificato! Devi stare zitto perché Amanda impazzisce eh! Allora a chi lo spediamo? Eh non lo so io! Allora non è Amanda! Boh è un nome con quattro cifre chi è? Sara! Non si chiama... E io non lo so come si chiama la tua amica però eh! Mh... Un nome con quattro c! Carl! Non lo so come si chiama! Frank... Katie! Che... Ah ma io non l'ho scritto Kate credo eh! Ha macchinato raga! Io non ho scritto così! Auma auma! Finito il gioco! Non è finito il gioco! Questa è una finta ragazzi! Non fatemi prendere in giro! Vedete? Adesso ci fa uscire dalla cassetta! Probabilmente! Eh sì sì! Il topo delle balle! Eccola! Ok! Noi ne dobbiamo prendere un'altra! D'accordo! Ma le cassette le lasciamo in giro! Non ce ne importa proprio! Abbiamo però vedete questa volta la melodia! Ah eh! La melodia! Arre! Eh eh! È un bel problema eh! Perché probabilmente c'era una canzone dentro la videocassetta! Proviamo C... B... F... Ha ha! Super pro! Super pro! Che musico ragazzi! Che musicante di brema! E abbiamo la prossima cassetta! Ficchiamola dentro! Vediamo di che cosa si tratta questa volta eh! Amandona! Vuoi farmi paura eh? Non ci riuscirai facilmente! O no! No! È stato cazzottato! No! Non ha avuto un incidente! L'hai manato te! Un incidente quando succede qualcosa di brutto! Ma non è colpa di nessuno! Non è vero! È colpa tua! Amanda Sarda l'ha picchiato! Sono sicuro! Wooly voleva avvertirci di qualcosa! No! Sei una schifosa! Alle 3.45 di questo pomeriggio! Bisogna ricordarci questo orario eh ragazzi! Eh infatti! Non è caduto! Dove si è fatto male? Si è fatto male nel ginocchio! Ha preso una freccia nel ginocchio! Maledetto Wooly! L'hai picchietto te! Maledetta! Chi ti può aiutare? Il dottore! Portiamolo dal dottore! Come no? Si! Dobbiamo portarlo dal dottore! Non lo so! Amanda? Non ci sta Amanda! E chi ti può aiutare? L'obito... Chi ti deve aiutare? La mamma! Dormire! Eh? No! Ma certo che lo voglio aiutare! Come lo aiutiamo? Una bella dormire! No! Dormire l'ho già scritto! Non lo so! Il dottore non... Doctors! Non ti aiuta! Il dottore non ti aiuta! L'ospedale! Ospedal! Oh! Cos'è? Ho sbagliato qualcosa! Ma mi ammazza! Stai a vedere! Aia! Oh! Mamma mia! Hai visto come ha sclerato per un attimo? Mi stai facendo perdere tempo! Sto finendo la pazienza! Ah! È cambiata la parola! Medico! Medico! Eh! Ma dottore e medico è la stessa cosa! Da bene! Però almeno ce lo vuole portare! Dai! È gentile! In quale stanza dovremmo andare per trovare il medico giusto? Beh! Quella delle ossa rotte, no? Perché si è scazzottata l'osso! Quindi andiamo qui! Curiamolo! Che bello! Però l'hai picchiato te! T'abbiamo visto tutti! Che lui voleva dire qualcosa! Non arriverà il medico secondo me! Aia! Lo dobbiamo aiutare noi! Che casino! Mamma mia! Povero Julio! Mamma mia! Non è giusto! Era la pecorella mia era! Come lo curiamo? Non lo so! Con questo! Ah che bello! Indovinato! Lo guariremo! Tornerà bene come prima! Finito! Così! Ma scusate! Ma a me non sto capendo bene! Perché ho capito che sono diverse cassette! Però secondo voi andando avanti con le cassette diventa horror! Perché so che è horror! Ho visto delle immagini di Amanda e si trasforma! Diventa un gurgurrone bestiale! Quindi sicuramente succede! Quindi questa è la terza cassetta! D'accordo! D'accordo! Io le lascio sempre per terra! Tanto comunque spariscono! Eh lo sapevo! Guarda un po'! Allora mo' c'è l'orologio! Nell'ospedale c'era un'ora diversa però eh! Perché fuori era un'ora! Ed erano le 3.45! Ce lo ricordiamo benissimo! Ok? Le 3.45! Però dentro l'ospedale mi pare che erano le 22.5... Le 25! Era più tardi! Perché giustamente ci siamo arrivati dopo! Proviamo a mettere prima le 3.45! Allora 3.45 sappiamo tutti quanti che sappiamo usare bene gli orologi! Che sarebbe così! Ok? Esatto! Esatto! Ma siamo fighissimi! Non è che magari però ci sono due combinazioni di orario che dobbiamo mettere? Questo sarebbe un altro orologio! Però è una lancetta sola! Volendo posso metterla sulle 3! Magari funziona così! Cioè non avendo l'altra lancetta! Eh però mi sembra un po' strano eh! Non lo so! Forse devo trovare l'altra lancetta? Probabile! Probabile devo trovare l'altra lancetta? Per poi poterla mettere qui dentro! Cavolo si fa complicato però eh! Quindi devo trovare un'altra lancetta per quell'orologio lì! Che sicuramente dovrebbe essere... Madonna! Ma questo non è un altro orologio! Ci sembra eh! Qui c'è un altro ancora però mi pare che questo non si può... Non è vero si può toccare anche questo... Mamma mia! Mamma mia! In teoria così è già alle 3.45 però questo! Quindi dovrebbe essere giusto! Non so se l'ho messo io! Mi pare di no però! Mi pare che c'era già! E in mezzo agli scaffali qui ci dovrebbe essere altro! Sicuramente c'è altro qui in mezzo! Questo sta continuando a girare quindi quello secondo me l'abbiamo messo giusto! Qui c'è un'altra combinazione! Ok fantastico questo! Sarà un bel problema riuscire a risolverle tutte! Eh tic tac vedi? Ah aspetta però! Questa è l'altra lancetta dell'orologio a cucù! Era lì sulla bacheca! Quindi le cose sulla bacheca cambiano! Se tu non le leggi subito spariscono! Quindi avremmo dovuto probabilmente leggere quelle che c'erano prima! Va bene allora! Questa qui facciamola scendere! L'altra lancetta! All'altro orario però proviamo! Non lo stesso! Quindi così? Esatto! Ok! 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 Ah! Cassaforte! E videocassetta! 826 e il codice della cassaforte! Ma scusa la cassaforte non era mica qua? Perché al momento c'è una scatola che è disegnata solo la cassaforte! Non mi dire che il codice sparisce io me lo devo ricordare! No me lo segno ragazzi! No non esiste! Perché poi lo so già come va a finire! Che io me lo dimentico me lo segno sul cellulare! 826! Perché so già come... Voi scrivetemelo nei commenti! Non sia mai! Non sia mai eh ragazzi! Non sia mai! Intanto prendiamo la cassetta! E ce la portiamo dall'altra parte! Non credo che il codice serva! Ci potrei provare eh! Per qui! No ma anche perché sono più cifre! Vedete? Queste sono quattro! Quindi non è possibile! Va bene! Va bene! Va bene! Ce lo ricorderemo per dopo! Sono sicuro che riapparirà! Per adesso tuffiamoci nella prossima videocassetta di Amanda! Che coltiva questa volta! Povero Wooly! Chissà tutti i sopprusi che deve subire da questa matta! Mamma mia! Bambinella sarda! Non buona però! Qual è il mio cibo preferito per il picnic? Ah eh! Lo spinaccio! Non lo so! Che mi piace! Amanda! Che cos'è questo? Si è cagata da sola pecora! E vabbè lo fa! Che deve fare? Poverina! È normale! È normale! Io sono esperto eh! Di... 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 Questiamo eh! Quindi vi dico si cagano addosso... Normalmente insomma! È normale! Cos'è che fa questo? Eh te l'ho detto! È Wooly che si è scagazzato! Ma è normale! È lui eh! Non si può cliccare lui! Ma guarda è lui eh! Te lo dico io! È Amanda! Chi è che fa l'odore? Questa robaccia qua! Che cos'è? È quello lì! Quella... Quella smermola! Ah che schifo! Puuu! Puuu! Cosa c'entra il tronco d'albero adesso? Perché? Le cose marciscono quando non sono più vive! Oh oh! Inizia a parlare di cose strane! Qual è il contrario di vivo? È morto! Eh lo so io! È morto! Eh sì eh! Poi così strane inizia a dire eh! Morto è il contrario di vivo! Eh sì! Come Uli! Che lo vedo preoccupato eh! Le piante possono... Ha cambiato voce eh! Oh se si ammalano possono morire! Torniamo al nostro picnic adesso però eh! Eh gli animali possono morire! Oh c'è un pollo morto lì! No è una volpe! Il signor volpe! È morto e sta marcendo! Oh mio Dio! Cosa pensi? Amanda! La pistola, il coltello, le bacche velenose! È stata Amanda con il coltello! È stata... Questo! Sì che è quello! Sì! Ti dico che è quello! Eh ti stai sclerando però! Ti stai perdendo la pazienza! L'hai ucciso te col coltello! No non ce lo può dire perché è morto! E comunque si sta da te! Guarda come si sta arrabbiando! Diventa tutto rosso! È arrabbiatissima! Insisto! Eh sì! La vecchia trappola per orsi! Sì sì! Certo certo certo! Quella non è comparsa adesso al posto del cespuglio! No 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 no! Amanda è pazza ragazzi! È morta! Abbiamo visto tanto! Che bello! Un panino marcio! Un tronco marcio! E quello sciocco del signor volpe marcio! Benissimo! Che bella avventura! Eh? A volte... Mi sento... Marcire! Oh oh! Ma è un momento lontano! Non c'è niente in... Il signor Vuli è un cretino! Il signor Vuli è un cretino! Comunque c'è ragione Amanda! No Amanda! Stai zitto! Non rispondere! Non gli voglio rispondere! Non voglio rispondere! Non rispondo! Don retta il signor Vuli! Don retta! Ecco qua! Eh? Non posso? Eh! Mi sa che devo rispondere per forza eh! Perché non la so la risposta! Non è che voglio farti i dispetti! Eh? Eh? Amanda! Non lo so! Eh? 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 Non sclerare però! Dov'è andato Vuli? Non lo so! Ok! Non devi perdere la parola! No! Io dico no! No volevo scrivere no e mi ha cambiato la risposta in sì! Perché è sparito un Vuli? Vuli ci vuole salvare! Vuli è un aiuto ma lei è cattiva! Cos'è successo? Cos'è successo? Perché non c'è niente? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Guarda che brutto! È Amanda! È Amanda! È Amanda! Madonna! Che brutta! Era il finale! Era il finale cattivo! Oh che figata! Oh mio Dio! Ma posso continuare eh? Se continuo secondo voi riparte dal punto dove non ero ancora morto? Sicuramente perché lì abbiamo proprio... Abbiamo proprio perso eh! Non lo so eh! No c'è ancora la cassaforte! Abbiamo il codice per la cassaforte però! Possiamo vedere che cosa c'è dentro? La cassetta! Non è di nuovo la prima! Ce ne abbiamo proprio perso! Cioè non è che abbiamo perso! Abbiamo beccato il finale! Uno dei finali! Quello cattivo! Ma ci sta! Ci sta! Però so che ce ne sono altri eh! Quindi potremmo fare il gioco di nuovo per beccare anche gli altri finali! Allora intanto proviamo a mettere il codice però! Che ne siamo curiosi eh! 8, 2 e 6! Abbiamo beccato il finale cattivo! Mi piace! C'è! Il finale cattivo è interessante! 8, 2 e 6! Ok! La cassaforte si apre per ora! Una mezza pagina! Con dei colori! E non solo! C'è anche un altro oggetto eh! I colori sono rosso, arancione, blu, beige, patata, lilla, giallo! Patata! E ce n'è altri però eh! Che sono mezzo strappati! Difficile riuscire a vedere tutto! L'altro oggetto? Non lo so! Sembra tipo un tappo di un pennarello grosso! Un occhio forse? Tipo della bambola? Cioè ci sono talmente tante cose in giro per la stanza! Che cioè è difficile riuscire a beccare tutto! Se vedete per esempio su questo vasetto! Guardate! C'è lo stesso codice! Uno dei codici che c'è qui! L'ultimo! Vedete? Ah ora capisco! Questa mezza pagina probabilmente si allinea! Esattamente con questa! Cioè così abbiamo riformato il tutto! Ho capito che cos'è questo oggetto giallo! È il pulsante pausa! Ma sono cretino anch'io! Perché così noi ora possiamo mettere in pausa durante le cassette! Capite? È importantissimo! Vedete? Possiamo andare avanti veloce! Fino a che vogliamo! Però poi possiamo anche mettere in pausa! Qua era tipo torta, torta di mele! Vabbè non ce ne frega nulla! Ah sembra deliziosa! Però noi possiamo mettere in pausa il tutto! Tornare indietro! E interagire con la stanza durante che lei fa queste cose! Qui per esempio proviamo ad accendere il forno! Mentre lei va avanti con le sue faccende! Ci mettiamo dentro pure una cosa! Guarda! Così! Chiudiamo! Ah non chiude! Vabbè l'importante è che sia acceso! Secondo me dentro il gioco adesso! Avendo noi fatto questa cosa! Dovrebbe succedere qualcosa! O forse no! Forse dopo! Vedo del fumo ma mi pare che questo c'era già! Cioè il mio obiettivo è cambiare qualcosa dentro il gioco! Toccando fuori! Perché secondo me è quello che dobbiamo fare! E questa è la differenza che c'è adesso! Qui mi pare che era coltello vero? Sì esatto! E vedete? Vedete? C'è l'icona del mettere in pausa il gioco! E di toccare qualcosa col forno! Quindi noi è proprio questo che facciamo adesso! Quindi accendiamo il forno! Mettiamo sempre a 425 gradi! Con un timer pure! Perché almeno siamo sicuri che è sicuramente acceso! E infatti guardate qui è cambiato qualcosa! Il forno sta andando in fuoco! Questo è un ottimo segno! Cioè sicuramente abbiamo toccato qualcosa di giusto! Ok! La cassetta è stata sputtata fuori! E abbiamo una nuova ricetta da fare! Oh interessante! Il pasticcio di carne! Con la carne di Wooly probabilmente va fatto questo! Ingredienti! Patate e funghi carne! Forno a 525! Ok! Ok! 50 minuti! 525 e 50 minuti! Va bene! Allora mettiamo prima il forno alla temperatura giusta! 525 e 50 minuti! E poi ha detto di mettere, se non ricordo male, carne, patate e funghi! E questo è un problema! Perché io non ho né carne né patate né funghi! C'ho solo il formaggio! A meno che noi non dobbiamo disubbidire però a quello che ci stanno chiedendo! Perché questa sembra una roba un po' creepy, no? Un tortino di carne! Boh! Proviamo a metterci invece una pesca! Perché era nascosta in un angolo della stanza! Magari sai mica! Potrebbe essere la strada giusta? Potrebbe essere la strada giusta! Perché ci ha dato una cassetta! Gialla! Per di più! Una cassetta diversa da quelle che prendiamo di solito! Quindi... Perché no? Proviamo a ficcarci dentro questa! Non c'è scritto niente! È anonima! Dove l'ha festeggiata? È un video di una persona che guardava Amanda! Una sorpresa speciale per te! Per Lauren! È la bambina! Wooly! Ecco cos'ho! Wooly! Wooly forse veniva dal cartone! È impegnata con la sua migliore amica Amanda! Il cartone! Trasmettono quel programma! La ipnotizzava praticamente! Guardiamola una volta tutta interessa! Perché non l'abbiamo mai vista! Abbiamo la torta in gelato! Vieni ma lì! Ipnotizzata di brutto! Urca! La bambina è sparita! Lauren! È stata risucchiata da Amanda! O è scappata? Secondo me è stata risucchiata dentro il cartone animato! Adoro le gocce di cioccolato alla menta! Quella continua a fare i cavoli suoi! E credo che finisca così! Quindi praticamente c'è la storia di questa bambina che... Chissà dove è finita eh! Per colpa di quella matta di Amanda! Abbiamo ancora questa questione con i colori che purtroppo non riesco a capire che dobbiamo farne! Credo che non abbiamo scelta! Dobbiamo fare per forza la ricetta che Amanda ci ha chiesto! Questa è una specie di easter egg! Quindi allora! Possiamo farcela eh! Dunque! Poteto, mushroom e meat! E i mushroom sappiamo che ce li abbiamo! Sono questi qua! Un bel fungo! Ok? Questo è semplice! Lo mettiamo subito nella teglia! Ok? Poi ho notato che qui tra le varie cose c'è anche patata! Vedete? La luna è patata! Quindi vi faccio vedere che cosa ho scoperto! Se tu vai qua dietro ci sono un sacco di vasetti E questi vasetti hanno le icone degli stessi oggetti che ci sono su quel foglio Ok? Quindi sicuramente sono parte della risoluzione di quell'enigma Adesso cerchiamo di non sminchiarli troppo scusate però Eccolo qua! La luna! Ora la luna! Noi dov'è che abbiamo trovato uno di questi vasetti germogliato? Nella pozza di acqua! Quindi se noi ci andiamo qui e mettiamo il nostro Sicuramente germoglia! Ecco qua! Ed è germogliata una patata! Eh? Eh beh! Questa è intelligenza eh! Grazie grazie! Ora mettiamolo lì! Adesso ci serve la carne! Mi è parso prima Di vedere Però non mi ricordo dove Un topo Dentro la soffitta di Amanda Ora il problema è Che non mi ricordo assolutamente dov'era Era forse una tana? O forse l'ho visto andare in giro a correre? Eh! Questa è una bella domanda! Mi ricordo di averlo visto ma è sicuro un topo eh! Ah! Ecco cosa avevo visto! La trappola per il topo! Se noi ci mettiamo il formaggio sopra Il topo ci va sicuro! Te lo dico io! Dai! Su che lo so! Non manca niente! La trappola è pronta! Il formaggio è piazzato! Magari mi devo allontanare? Ma non credo eh! Cioè qui c'è un'altra cassetta chiusa Vabbè queste lasciamo le stare per il momento Eccolo! Il topolone! Il topolone! Ottimo! Abbiamo tutto eh! Allora adesso gradi giusti 50 minuti era corretto? Fammi ricontrollare 50 minuti 525 Ok 50 minuti Perfetto Metto dentro Chiudo Adesso mi da la cassetta Oh! Stiamo andando come dei draghi eh! Eccola qua! Perfetto! Cassetta! Questa qui dovrebbe essere quella nel quartiere Quindi stiamo procedendo con la stessa cosa E stiamo andando anche bene Adesso dobbiamo di nuovo mettere in pausa nel momento giusto Per riuscire a cambiare la storia Credo che Amanda stia impazzendo Ci sono solo negozi di carne adesso Non è colpa mia eh! Vi giuro non ho toccato niente E lei è impanicata Dice non so dove andare Mi sto mi sto No! Aspetti! Adesso si impazzisce e ci ammazza Un'altra volta Non vuoi andare nel negozio di carne? Perché non vuoi andare al negozio di carne? Cosa c'è di strano nel negozio di carne? Eh? Non vuoi andarci eh! E invece io ci voglio andare Perché secondo me c'è dentro qualcosa di strano Ho un po' paura di andare avanti troppo Perché ho paura che mi salta addosso Capito? Però credo che stiamo andando bene Dai Proviamo ad andare avanti Non vedo simboli di pausa Quindi penso che stiamo sulla strada giusta Lei è super sclerotica Guardate Non riesco a fermarla Eccolo il negozio di carne C'è lo stesso tizio di prima Potresti portarci da qualche altra parte? No! Voglio comprare un dolcetto speciale alla mia amica Ok E qui c'hanno la carne Oppure la carne L'unica cosa che c'è qui è la carne Sorella! Eh hai rotto tutta la città Porca cazzozza Uli abbiamo fatto un casino Manda sei arrabbiata eh In giro per la stanza A me non pare che sia cambiato ancora niente Quindi Suppongo che stiamo facendo le scelte giuste Qua si è disostrutto tutto però eh Metti l'indirizzo sul biglietto Lo metto io l'indirizzo sul biglietto Secondo me è U Allora non è più Kate Perché il nome è più lungo È V U U Li È Vuli La vuole lui questa Perché c'è il coltello dentro È per Vuli Perché io ho preso il coltello Cavolo Mi sa che abbiamo fatto la cosa giusta Senza quasi neanche volerlo eh Eh sì Perché io dal macellaio Per la prima volta Non so se ve l'ho fatto vedere Ma ho cliccato Il coltello che aveva lui La mannaia Quindi può essere Può essere Che è la strada giusta Per uccidere Amanda Magari Vuli vuole uccidere Amanda Però sto vedendo qui Che c'è un'altra situazione Che non ho capito Mi dice che devo Questo è un bel casino eh Devo fare una serie di sequenze Con i negozi probabilmente Perché mi dice dove Siamo andati Abbiamo provato Mi ci hai portata tu Quindi è 24 ore Candy Caramelle Eh carne Ok Gazzu vuol dire tipo Interior Carne Che schifo E questa è la bambola Che viene tagliata la testa Ok Ok Qua in alto c'è un altro oggetto Non riesco a capire cosa sia Ma la bambola che viene tagliata la testa Lo capisco benissimo invece La bambola a cui viene tagliata la testa Non è altri Ecco non c'è più Era qui eh Però una cosa che Possiamo fare Mi sa che c'è Qui nel baule Ci sta una parola La parola grande che c'era lì E che non era neanche tradotta Quindi probabilmente universale È Gazz Ok Quindi sicuro O almeno credo Noi dobbiamo inserire questa parola Aspettate che Facciamo le cose per bene Proprio dentro questa combinazione Eccolo qui Infatti E secondo me qui dentro ci troviamo le forbici Vediamo Le forbici Sì Ottimo Ok E le mettiamo qui Ok Ricordiamocelo eh E poi c'è anche un'altra videocassetta Vediamo che cosa ci dice la videocassetta Proviamo a mandarla avanti tutta insieme Male che vada la riguarderemo Se ci perdiamo qualcosa Credo di no comunque Ciao amici Amanda allo zoo Allo zoo dove si accarezzano gli animali Beh Sono Wuli Wuli ha appena fatto un verso d'animale Ma non mi dire È una pecora Ah Pensavo fosse un capriolo al cigno Eh Bello Eh ho fatto anch'io il verso Beh bello Eh sono proprio Wuli Ah che bello Mamma mia Che succede Un avviso per una Una tempesta imminente Ma Amanda se ne frega però Lei continua col suo programma Ci sono molti animali qui Da accarezzare È divertentissimo Sono così diversi dalle persone Eh Che tu ammazzi Ma ammazzi anche Wuli Quindi insomma Fa poca differenza Eh vedi lo dice anche lui Gli animali non parlano Stai zitto Bestia Guarda questi cartelli Facciamo i suoni come gli animali Sui cartelli Che bello Che meraviglia Sì che siamo pronti Sì che siamo pronti eh Dobbiamo fare oink Una capra Fa me Ragazzi che ci tocca fare Una gallina fa E un maiale fa Oddio Che paura Ma cos'era quello Quello non era Un maiale normale Porca zozza che brutto Mamma mia Il creepy viene fuori Sempre di più eh Andiamo a vedere Una delle famiglie degli animali Va bene Le galline Puoi mostrarmi dove sono Certo Amanda Sono di qua Vedi Sì Quelle stupide galline Viene fuori La vera Amanda Ogni tanto Che bella famiglia Secondo me Uli si sta trasformando E una lotta contro il tempo Se farà in tempo Lui ad uccidere Amanda O se Amanda farà in tempo Prima A farlo impazzire Un papà pollo E dei piccoli pollini Sai come si chiama Il papà Si chiama Gallo Eh Un bel gallone Guarda che bello Tutto fiero La mamma Una chioccia e i bambini Sono pulcini Grazie Amanda È bello imparare con te Adesso però possiamo Passare all'horror Grazie Eh Oh no Quella gallina Si è mangiata I pulcini Ma a me è orribile Questo è horror Però eh Ha voglia Non penso Lo faranno davvero Boh Dove andiamo adesso Dai ragni Le pecore Uli non ci vuole andare Dalle pecore Ma noi sì Noi sì Ci vogliamo andare Perché non è che io Sono così tanto Dalla parte di Uli Cioè Lui è buono Però Una bella famiglia Di pecore Tutti al loro posto Sì Quello è Uli Secondo me S'assomiglia Attenzione Un altro avviso Di un'altra tempesta Blizzard Blizzard Cerchiamo di ricordarceli Questi simboli Eh potrebbero servire Diamo anche un'occhiata In giro per la stanza Non credo ci sia nulla E invece sì E invece sì C'era la ruota Del tempo Ah ho capito Allora Eh questo Questo potrebbe essere Problematico Questo era l'oggetto Che era lì dentro Nascosto Impolverato E anche mezzo rotto Al momento Ce sarebbe La tempesta Però noi Forse dovevamo Mettere in pausa Il filmato prima Facciamolo andare Fino alla fine Vediamo che cosa Succede intanto Però probabilmente Dovevamo fermarlo Durante i warning Quindi prima Al thunderstorm E poi adesso All'altro warning Dopo ci proviamo Se ne da un altro Come Questa è triste È triste È triste Deve essere spaventata Eh poverina Poverina Eeeh Miau 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 Eh Non c'è nessuno E le voglia bene È un vero peccato Mmm Bom Sola Giusto Sola Eh Beh è sola Stavo pensando Tutta la questione Di prima Aiuteresti la gattina Ma certo Sì Ma Uli è là dietro Non lo vogliamo aiutare Poverino Amanda Amanda Uè Amanda Ti parla Che è successo Amanda Amanda Mamma mia Amanda Come sei brutta Però eh Samanda Va bene Allora abbiamo visto La cassetta E infatti Così Riusciamo a prendere La cassetta Che ci serve Che era proprio Qui dentro Ok Perfetto Adesso Ho una torta Sul tavolo È un biglietto Di auguri Sei di un anno Più vecchio Buon Buon anno E c'è un codice 081821 Ok Questo è palesemente Il robottino Perché c'era Anche il disegno Del robottino Quindi Mettiamo Il codice Sul robottino Ti prego Adesso Sicuro me lo dimenticherò Perché io Come al solito Sono rintronato Ecco Quando mai Ok 2 E 1 Invio Ok Questo è un codice Di risposta 325F At 30 minuti Questo Ok Sono i gradi 30 minuti A quei gradi Sul forno Suppongo Di dover Infornare La torta Oddio È difficile Riuscire a Capire qui Allora Sicuramente Bisogna infornare Qualcosa Per forza 325 gradi 30 minuti Mi pare No Di aver letto Ok Ah ok Bastava mettere Il forno vuoto Ok E abbiamo La candelina Per la torta Ah Capisco Forse ce ne vuole Un'altra E abbiamo anche Un'altra nota Con un altro Codice In candeline Candelina per 4 5 Meno 1 Urca miseria Blabot È un codice Per il blabot Forse ci vuole anche La melodia Del buon compleanno Magari Che ricordo che Questa l'avevamo vista Prima qual era La sequenza Delle note Dovrei anche Ricordarmela Fa una fatica Io eh Dovrebbe essere Così Poi così Ok Candelina Ok infatti Ne mancava un'altra Me lo ricordavo Ok Terza candelina E la torta è pronta E si sta squagliando Porca zozza Sia sicuri Abbiamo fatto bene Si scioglie la torta È un buon segno Si che è un buon segno Perché dentro c'è Un'altra cassetta Ha 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 Ottimo Ottimo Un'altra cassetta Era quello che ci serviva Buon compleanno a noi Credo di aver toccato qualcosa Nell'ultimo riavvio del gioco E non ci sono più I sottotitoli in italiano Ma Wooly è tipo In sala operatoria Guarda che casino Quale strumento No Povero Wooly La sega Il martello Oppure il forcipe Oh porca zozza E non lo so Dobbiamo per forza Usare qualcosa Povero Wooly Che disastro C'è orribile E usiamo Non lo so Tanto Sembra difficile da usare Dai Dai martellate Su Ti ho ingannato Li useremo Su dietro Oh no No Oh mio Oh mio dio Oh Ho bisogno di aiuto Il paziente si ribella Povero Wooly Dai Amanda Ma sei un mostro Aiutami Dai Mettiamogli le mani addosso No Wooly No Oh mio dio Ah non mi aiuti No no Faccio da sola Bene Farò tutto io Vattene via No Oh mio dio Porca miseria Non so più neanche se possiamo ancora salvare Wooly Porca zozza Poverino Ultima cassetta Mi sa che è questa Oh mio dio C'ho un po' paura Beh a questo punto ormai siamo al finale Secondo me Quella era Vedi è un po' un mashup di tutto questo È tipo Tutte le cassette che abbiamo visto Tutte insieme Ok aspettate Ho fatto un progresso Nell'armadio c'era un secchio grosso Noi se lo mettiamo qua Possiamo raccogliere La perdita dal soffitto C'era la macchia di umido per terra Quindi possiamo raccogliere un bel secchione d'acqua Ora con questo secchione d'acqua Fatemi provare a buttarlo sul robottino Perché secondo me potrebbe essere l'idea giusta Che magari lo mandiamo in cortocircuito No lo facciamo impazzire E cambia tipo modo di fare Non lo so Succede qualcosa di strano Ok Funziona In qualche maniera funziona Adesso sul robottino Secondo me O forse serve più acqua Due secchi d'acqua Perché ancora mi sembra funzionante Eh il signorino Cioè non l'abbiamo distrutto Mi aspettavo che esplodesse O che andasse in fumo O qualcosa del genere Raccolgo un altro secchio d'acqua Magari devo prima digitare un codice E poi dopo devo impallarlo Eh no adesso però mi sembra Eh sì Lo stiamo torturando praticamente Per favore Non Dimenticare Non dimenticarmi No Anche noi siamo un po' mostri Eh La permanenza con Amanda Ci sta facendo diventare scemi Ok L'abbiamo sconocchiato E mi pare che dentro ci sia qualcosa Chiave Ok Questa è la chiave sicuramente Del baule in fondo alla stanza Quindi ci andiamo Apriamo il lucchettino E dentro ci troviamo Un'altra cassetta Ok Questa è l'ultima cassetta Tecnicamente Quella abbiamo trovato ora Nella cassa Che mi sembra delirante Tra l'altro Ciao Io sono Amanda Che bello Quando hai amici Puoi condividere le cose Con gli altri Quando non ne hai No Io posso dividere I miei pastelli Con te Così puoi divertirti Colorando anche tu Ah Guarda che stupida Mr. Fox Che è nella tagliola Come l'abbiamo vista prima Ah Condividere Ti fa capire Che ci tiene a qualcun altro E gli amici Condividono i giocattoli E poi possono condividere Gli snack Non dirmi che c'ha Uli dentro lì Che snack ti piacerebbe Salsicce di pecorella Oh madonna Che cos'è Quello formaggio Ah Quello è il mio preferito Che buono Ah ma gli amici Possono condividere Anche delle altre cose Possono condividere Dei segreti Posso condividere Un segreto Con te Eh Beh Devo scrivere in inglese Perché Mi si è rimesso in inglese Quindi yes Credo Beh per forza Cioè io posso anche dirle Di no eh Però tanto Dubito che lei Si trattenga Ah pensavo Che tu fossi diverso Ah Ok forse dobbiamo dirle No non è vero Ci ho svuotato la soffitta Vai via Secondo me Se io le dicevo di sì Appariva il mostro E moriva un'altra volta Questo è il finale Questo è il finale Il giusto finale Sicuro se gli dicevo di sì Di condividere con me il segreto Appariva un'altra volta Quel mostro La bestia E morivo Invece in questo modo Lei mi ha fatto andare via Dal suo Scantinale Dalla sua soffitta E quindi sono salvo Perché la soffitta era bloccata Eh È stato un bel viaggio Nel gioco di Amanda Lunghissimo È durato tanto Ma grazie Per essere arrivati Fino a questo punto Per averlo seguito Tutto con me E vi mando un abbraccione Amandesco E ci vediamo Al prossimo gioco pauroso Lion Out Tutto E ci vediamo E ci vediamo E ci vediamo